Segnano tutti tranne il Barletta. Il dato emerge al termine della terza giornata del campionato di prima divisione che sancisce anche l'aggancio in vetta di Benevento e Pisa al fuggitivo Pontedera. Questa volta costretto ad inseguire nel derby contro il Viareggio e salvato nel recupero da D'Agostino. Eppure la neopromossa aveva trovato subito la via del gol al quarto con Pastore. Anche il vantaggio però è durato appena due minuti, giusto il tempo per consentire a Vannucchi di siglare il pareggio. Primo tempo che si chiude con i bianconeri avanti grazie a Devena ma il recupero è fatale per il Viareggio ma alleato del Pontedera che resta in vetta alla classifica agganciato da un'altra formazione toscana. Il Pisa si affida al solito Armà per conquistare i tre punti all'Aquila. La domenica favorevole delle Toscane si completa con il successo del Prato a Barletta. Tiboni e Corvesi rompono il digiuno di gol per la loro squadra lasciando ai biancorossi il triste primato e il pareggio del Grosseto contro la Nocerina. Vantaggio per i Maremmani firmato da Asante risponde nel secondo tempo per i padroni di casa, Lepore. L'altro pareggio, anche questo per uno a uno, matura tra Gubbio e Salernitana. Il botte in risposta lo firmano Ginestra per i Campani e Maroni per gli Umbri. Si segna su tutti i campi, il Benevento la terza capolista del Girone addirittura ne rifila quattro a Lecce del solito Biccoli grazie alla doppietta di Evacuo e alle realizzazioni di Mancosu e Mengoni e sono tre le vittorie in trasferta. A quelle già citate di Prato e Pisa va aggiunto il blitz dell'Ascoli a Pagani, decide Tripoli. Di misura è anche la vittoria del Catanzaro sul Frosinone. Martignano regala tre punti pesanti ai calabresi.